Un pochino, un pelino, in ritardo, ma non per colpa mia. Ragazzi, io ero convinto che la conferenza stampa fosse alle 18.45, come aveva pubblicato anche la Juventus sui suoi social, e invece era alle 18.45 sì, ma dell'orario portoghese, quindi con il fuso orario 19.45 italiane. Soltanto che io avevo allenamento a quell'ora, e quindi sono appena uscito e recupererò adesso. Quindi non faremo la solita analisi minuziosa della conferenza stampa parola per parola, ma cercheremo di racchiudere un attimino i commenti che sono stati secondo me più interessanti, le domande, le risposte più interessanti da parte di Alessandro e di Massimiliano Allegri, perché domani si va a giocare una partita, non è stato detto, ma era scontato, perché questa volta è veramente decisiva, nel senso che domani potrebbe esserci effettivamente l'eliminazione della Juventus dalla Champions League in maniera matematica. E devo dirvi la verità, nel caso non sono pronto. Non sono pronto, perché è un po' troppo presto, e se negli ultimi anni eravamo abituati ad arrivare a meno gli ottavi, pensare che prima di Halloween potrebbe esserci la matematica uscita dalla Champions, beh, non mi va giù. Devo dirvi la verità. Prima di tutto, io vi ricordo di scaricare il numero 10 dal link qui sotto in descrizione, completamente gratuita, e sull'applicazione potrete trovare tanti contenuti esclusivi che verranno creati e caricati proprio da sottoscritto, sotto il punto di vista dei video, quindi magari post partita come quello di Eventus Empoli, oppure articoli, alcuni articoli che sto scrivendo per guadagnare, per ottenere il patentino da giornalista. Quindi vi aspetto su numero 10. E ragazzi, io vorrei partire in realtà da Alessandro, che non dice chissà che cosa, però conferma, conferma il 3-5-2. Così come l'ha confermata pure Allegri. E voi direte, vabbè, e quindi? E quindi niente, però, dato che oggi avevo parlato, no, del 3-5-2, della possibilità di utilizzare Chiesa in una certa posizione del 3-5-2, e diversi commenti, e ci sono anche rimasto abbastanza male nel leggerli una piccola parte, ma comunque abbastanza consistente, continuiamo a dirmi che in realtà la Juve non è mai passata a 3, ma sta continuando a giocare a 4 dietro. No, nel senso, non c'è bisogno che ve lo dica io, ve l'hanno confermato Alessandro e Allegri, quindi, ragazzi, non è vero che la Juventus nelle ultime due partite ha giocato a 4, è stato palesimente un 3-5-2, ve l'ho dimostrato con le hitmap nelle varie analisi delle partite, e l'hanno dimostrato anche, appunto, Allegri e anche Alessandro, parlandone in conferenza stampa. Poi Allegri a un certo punto parla di imbattute, di squadra ancora imbattute in Europa, e fa un elenco, un elenco che preoccupa, purtroppo, perché dice Benfica, Napoli e PSG sono tre squadre che in questo momento sono ancora imbattute in Europa. E allora il Napoli ce l'ha in Serie A, il Benfica e il PSG ce li ha in Champions, nel girone, e l'unico modo per passare questo girone e battere sia Benfica che PSG e sperare che il Maccabi freni una delle due. Quindi capite bene che in questo momento ragionare, pensare a una qualificazione, beh, io oggi parlavo di miracolo sportivo, confermo le mie parole. Non posso fare altro che, poi è vero che per la legge dei grandi numeri non hanno ancora perso, quindi, ehi, c'è possibilità che possano farlo contro la Juventus, però il calcio, per fortuna, non funziona solo in questo modo e per ottenere le cose bisogna lavorare sul campo e guadagnarsele. Quindi domani a Aldaluz bisognerà fare una partita decisamente importante, molto, molto importante. Mi è piaciuto Allegri quando parla di pericolo legato all'euforia. Nel senso, dice, non è che se abbiamo vinto le ultime due allora abbiamo risolto i problemi e se vi ricordate la conferenza stampa pre-Empoli questa era la mia più grande preoccupazione perché avevo visto un Allegri particolarmente tranquillo e euforico e dicevo non è che si sono illusi, si è illuso in una partita col Toro di averciolto i problemi, infatti è stato bravissimo a sottolinearlo ben due volte dicendo ragazzi sì, le abbiamo vinte le ultime due ma cioè, dobbiamo ragionare sul fatto che tanto sono cose passate e poi abbiamo battuto Torino ed Empoli e domani appunto affrontiamo una partita di Champions decisiva aggiungo io contro il Benfica che in questo momento non ha ancora mai perso in stagione e quindi tenere alta la concentrazione lui parlava di difese immunitarie tenere alte le difese immunitarie mi è piaciuto come parallelismo e sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Allegri e se l'altro giorno con l'Empoli l'ho visto un po' troppo rilassato oggi l'ho visto un po' teso forse perché anche lui capisce il momento di difficoltà a un certo punto secondo me è anche un po' fuori dei denti tra virgolette ha detto non siamo ancora qualificati in Europa League secondo me quello è stato un lapsus che ci può stare in questa situazione perché capisco che la facciata di un rappresentante della Juventus debba essere come Alexandro giustamente detto andiamo lì l'unico risultato possibile è la vittoria il tifoso Juventino deve ragionare in questa situazione poi dall'altra parte però c'è anche una presa di coscienza di consapevolezza che va a analizzare il momento della Juve va a analizzare il momento del Benfica e ti dice sai è vero devi vincere però questo non hai perso tu sei in una situazione un po' delicata e quindi attenzione che non sei nemmeno ancora qualificato in Europa League perché purtroppo hai perso a Maccabi e quindi secondo me è stato un lapsus da parte di Allegri ma anche una botta di onestà di sincerità perché Allegri ha chiesto atteggiamento e massima attenzione che c'è stata con Torino e Dempoli dice ma non nelle precedenti e anche qua ribadisco è un messaggio che non mi piace ma è l'ennesima volta quest'anno che dico che non mi piace quando Allegri passa questo messaggio perché un conto è parlare nello spogliatoio nello spogliatoio bisogna essere schietti duri sinceri onesti perché bisogna analizzare i problemi risolverli alle telecamere sempre solo parlare di attenzione a parte dei calciatori e di queste cose qua quindi legate gli errori in un momento anche un po' delicato secondo me rischi di farti scivolare un po' via di mano lo spogliatoio mia posizione personale che ho già ripetuto tante volte quest'anno non voglio starci sopra perché sarebbe un discorso che ho già analizzato in più sfumature quindi direi di andare avanti perché Allegri a un certo punto dice io credo che la partita di domani andrà bene e io aggiungo beato lui perché io ho una FIFA blu della partita di domani ve l'ho già detto tante volte l'ho ripetuto stamattina lo ripeto anche adesso io in domani vedo vedo una disfatta grossa da parte tra Juventus sono il primo a sperare di sbagliare ma temo veramente che la Juventus possa diventare vittima sacrificale di questo Benfica che all'andata è stato secondo me molto 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 superiore a noi infatti non ho condiviso le parole di Allegri sull'analisi della partita che dice vabbè la prima mezz'ora l'abbiamo giocata bene è stato meno 15 forse 20 minuti a esagerare dove si abbiamo messo sotto il Benfica poi dice chiudiamo il primo tempo con quel rigore sì è vero però il Benfica aveva comunque avuto occasioni poi dice nella ripresa perdiamo per un paio di contropiedi di ripartenze beh io all'andata ho avuto la sensazione di poterne prendere 4 o 5 tranquillamente ma molto tranquillamente se aggiungiamo che il Benfica ripeto è imbattuto in Europa l'ultima partita ha battuto il Porto mi pare tra l'altro in trasferta quindi una squadra non facile per nulla Benfica che è una squadra che gioca molto bene in un calcio molto offensivo e noi probabilmente domani saremo schierati col 3-5-2 o forse no ma poi ci arriveremo ma ci sono tutte le carte in regola per una serata di sofferenza poi gli fanno una domanda scomoda a Massimiliano Allegri dicono ma uscendo domani dato che è la prima volta che è una tua squadra in Champions potrà eventualmente uscire ai gironi nel caso sarà un fallimento personale Allegri dice no un fallimento personale no e io qui sono d'accordo con lui no perché dovrebbe essere un fallimento personale solo di Massimiliano Allegri o almeno può essere lui può ritenere un fallimento personale ma non solo di Massimiliano Allegri perché Allegri ha tante colpe e ben già analizzate mille volte su questo canale in vari contenuti ma mettersi lì a dire che il fallimento deve essere unicamente personale di Massimiliano Allegri non sono per niente d'accordo perché si vince la squadra si perde la squadra Allegri vale le sue colpe così come le agnelli così come le hanno i calciatori così come le hanno i dirigenti quindi non può essere la sconfitta di Massimiliano Allegri nel caso domani poi è ovvio che nel calcio l'allenatore è una figura che viene molto presa di mira ma pensare che tutte le colpe possano essere soltanto Allegri secondo me è pura follia e poi vorrei passare dato che abbiamo parlato di sfatta io mi aspetto veramente domani l'uscita dell'eliminazione ufficiale matematica dalla Champions League transfer market dai numeri e quindi ottavi di Champions League le percentuali più basse di qualificazione per gli ottavi Siviglia è la più bassa che ha 2.05% poi c'è l'Aix 285 Copenaghen 4.4 Bayer blablabla arriviamo Maccabi 9.93 Juventus 11.73 ora la domanda che vi faccio io è secondo voi 11.73 è una percentuale onesta alta o bassa per la Juventus perché io prima prima di Maccabi Juve e quindi dopo Juve-Maccabi tra l'andata e il ritorno avevo detto eliminati al 90% il che significa che prima di perdere col Maccabi per me c'era il 10% di possibilità di essere eliminati dopo la sconfitta col Maccabi quindi secondo me la percentuale di qualificazione della Juventus si abbassa ragioniamo sull'ordine del 10% invece che quasi il 12% il che significa una possibilità su 10% secondo me oggi la Juventus per qualificarsi ha circa una possibilità su 20% per quanto mi riguarda alla vigilia di Benfica Juventus la Juventus ha il 5% di possibilità e forse anche qualcosina di meno di qualificarsi agli ottavi secondo me 11.73 è una percentuale molto molto alta per quella che è la situazione attuale della Juventus e voglio sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti in maniera matematica quindi secca precisa io vi dico 5% se non meno e poi andiamo a parlare di quella che potrebbe essere la probabile formazione perché oggi giornalisti hanno pubblicato questa come vi dicevo conferma il 352 come hanno detto Allegri e però a un certo punto Allegri dice sì però domani il 352 potrebbe essere un po' diverso potrebbe essere uno schieramento un po' diverso e qui allora mi viene a dire in che senso queste sono le classiche scelte agli allenatori se mi viene Allegri ci ha sempre stupito tra l'altro la vigente è una partita importante decisiva con qualche colpa d'effetto quindi non azzardo nemmeno eventualmente qualche cambio né di modulo né di disposizione né di giocatori però io adesso oggi guardo questa squadra Scesni Alexandro Bonucci Danilo Kostic Rabiolo Catelli Meccenni Quadrado Vlaovic Milik e penso è la squadra dell'anno scorso nove undicesimi di giocatori che c'era l'anno scorso perché i nuovi sono soltanto Kostic e Milik e basta ma senza Dibala senza Delit senza Chiellini senza Morata vogliamo aggiungerci Bernardeschi perché se vado a ragionare invece sulla campagna acquisti effettiva di quest'estate Paredes è indisponibile Pogba è indisponibile Di Maria è indisponibile Bremer è indisponibile quindi capite bene che la squadra dell'anno scorso tolti il capo canoneire dell'anno scorso che è Dibala il vice capo canoneire dell'anno scorso che è Morata il capitano dell'anno scorso Grechiellini il difensore migliore dell'anno scorso che era Delit senza possibilità di rimpiazzarli con Chiesa che è il giocatore migliore secondo me della rosa iniziale dello scorso anno in prospettiva che è ancora fuori senza gli acquisti grossi di questa estate con soltanto Milik che ha questo affaticamento che si porta dietro un po' e Kostic che comunque in questo momento sta facendo una buona parte del campionato ma una formazione che si porta dietro tanti limiti contro una squadra che in questo momento in Europa non ha ancora mai perso in trasferta dove non vinciamo praticamente lontani da Torino da aprile dell'anno scorso perché ovviamente il derby l'abbiamo vinto a Torino ed è l'unica trasferta che abbiamo vinto quindi io se metto insieme tutte queste cose e ragionando anche sul valore assoluto dello scontro diretto visto a Torino qualche settimana fa sono molto negativo sono molto negativo ed è inutile girarci intorno poi pallone tondo il calcio è bello perché ci sono dei momenti inaspettati il tifoso è giusto che vada a sperarci a crederci la speranza deve essere l'ultima a morire io domani sera sarò incollato allo schermo a reagire insieme a voi live su Twitch a questa partita con la speranza nel cuore perché davvero fino alla fine deve essere un motto di vita la speranza avanti la partita ci sarà sempre però dall'altra parte io ragiono su quelle che sono le problematiche della Juventus le situazioni in cui ci siamo andati a mettere e ora come ora vi dico se arriviamo in Europa League probabilmente abbiamo fatto il nostro perché passare il girone in questo momento mi sembra sinceramente complicato per il casino nel quale ci siamo messi ma voglio sapere anche un po' le vostre sensazioni qui sotto nei commenti spero che ci sia una percentuale invece di tifosi decisamente più positivi rispetto a me e vorrei leggere anche i vostri commenti per cercare di trovare una motivazione una speranza qui sotto nei commenti io in questo momento faccio un po' fatica ribadisco secondo me di passare il turno c'è circa il 5% di possibilità domani di battere il Benfica quante possibilità ci possono essere 30 35 25% non so una su quattro il che significa che eventualmente vincendo domani sera beh per me sarà una sorpresa e quindi una goduria ancora più grande fatemi sapere un po' che cosa ne pensate voi ciao ragazzi buonanotte o buongiorno secondo di quando state guardando ascoltando questo video grazie a tutti Grazie a tutti.